30.000 di piace e faremo un calcio saponato con le ragazze! E allora ragazzi, carichi come non mai da Fuse Gamer. Oggi ragazzi sono qui con questo telone per il calcio saponato. Ragazzi però non trovo divertimento a stare da solo, perché sono in Villelizzo! Oggi ragazzi torneo di calcio saponato. L'abbiamo già fatto gli anni scorsi, vi è piaciuto tantissimo come video, quindi ve lo riproponiamo con un torneo con altri ospiti, perché ci sono gli apri, Sam e anche Simone Grispo e tutti gli elizzo. Tranne il seno. Ciao, ciao! Quindi poi gli saranno quattro squadre da due giocatori, si arriva a cinque, due semifinali, una finale. Si comincia a mettere l'acqua, serve. Oh Dio! Oh! È congelato! Non ho mai visto Tati che volevi divertirsi così tanto, ve lo dico. Beh mi son lavato, non mi lavavo da due giorni. Prima partita, Tati, Sam contro Fuse. Porca miseria! E io? Prima di iniziare, un grande imbocco. Un grande imbocco! Andre! È una rara, Andre! No, è una rara, ti prego! Vai Tati! Sì! Sopra, Sopra! Che testato! L'espirazione bocca a bocca, dallo! Oh, sei arrivato a cinque! Adesso, adesso! Non arrivi! Vai! Sopra, uno, due, due, due! Buona, buona! Vai fuori! No! No, no! Andiamo su Kukarai! Oh! Sì! 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 Bravo Tati! Passamela! Amma, avanti! Passamela, no! Avanti, Amma! No! No! Bravo Tati! Non mollare, Tati! Pressa! Sì, Tati! Sì! No! Buona, buona, buona! Vai, Amma! Sì! 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 E adesso è il momento, Tati! È il momento! No! Skip, skip! But when does this game get fucking good? Zotto liquido! Dai! IAMO! No! No! No, alzati! Ti! No! Dai! No! ADIJAMOUS! Salvo nelle Yoku! Salvo nelle Yoki! Salvo nelle Yoki! Massen! 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 Vieni! Vieni, papi! Vieni! Vieni! Vieni, grazie! Vieni, grazie! Vieni, grazie! Non ti posso recuperare! Lu! Vieni! Nooo! Vieni, grazie! Vieni, grazie! Vieni, grazie! Vieni, grazie! Vieni! Tecnica del Gatina o invisibile? A iamma! A iamma! Uhhh! Ma che gol! Ma che gol! Grazie! Vieni! Mi scena! Non lo deve fare, non le devono fare, io, io, Andre, no, vai Sam, vai on go, eh, tantino è, vai two, three he works. Oh 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 oh. Sempre col suo. ний The grips of ball, oh 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 oh! ma cosa è diventato qua? vale tutto! prendi fallo Gnabry prendi fallo chi ti scusa? non vale! non vale! non vale! 2! come il Gigno? 4! grazie Gnabry! ma se sti fallo promettami 4 a 2 che gol si guarda il gol si! si vbolo! no no! è spalla...è rigore! è spalla, è rigore, andrei spalla, è rigore, prima spalla eh signore, spalla, spalla, no no non è rigore, ma come non è rigore guardate che tutto torna signori siamo arrivati alla finalissima, abbiamo aggiunto un altro po' di sapone ed acqua ovviamente, vero Crispo? quindi via la finalissima tra Samuel, Tatino, contro Henry e Gnabry uno, due, tre dai Tati! andiamo Tati, attacca! attaccamelo nooo ha preso più pari aeree oggi che io con Sofia in più tra la mia vita bravo, bravo, potrò parlare, parlo, parlo è uno e zero Gnabry è gol è gol gol, 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 gol dentro mannaggia vai 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 eccola vai 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 gol è gol nge è gol è gol è gol 4-2 è gol 3-2 Buon Mirko Buon 4 a 3 5 Finalmente il sapone ha perso Incredibile Voglio prendere un sacco di commenti appunto Del vostro MVP Di questo calcio saponato Io un'idea ce l'ho Non ve la dico Quindi mi raccomando ragazzi Per altri video del genere Lasciate tantissimi mi piace Ringrazio Gnabri, Tati, Simone Home è tutto Mirko Quindi mi raccomando lasciate un bel mi piace Un bel commento, iscrivetevi al canale Noi ci vediamo in un prossimo video Bella ragazzi Ciao